Perché metterne a lavorare uno vero quando posso mettere un manichino? Sarò mica stronzo che vado via a buttare via soldi così a stipendi per niente, quando in realtà posso anche andare a risparmiare. Ecco, questo è il ragionamento dell'amministrazione cittadina, un po' quello che fanno qui dappertutto in Indonesia. E noi intanto ci sentiamo alla prossima e te la do io all'Indonesia. Ciao a tutti! Ciao a tutti!